La settima edizione del premio Rosa Maria Schiraldi Magdalena Sassano, 31enne senisese, ha vinto la settima edizione del premio Rosa Maria Schiraldi che l'Avis Comunale di Senise intitola la sua dirigente avvisina prematuramente scomparsa nel gennaio del 2012. Il riconoscimento, arrivato alla settima edizione, è assegnato alle donne che si distinguono nel campo del volontariato e che dedicano la loro vita al bene comune, operando però silenziosamente a vantaggio dei più bisognosi. L'evento si è svolto a Senise nell'ambito della festa della donna donatrice. Magdalena Sassano, alias Claunazzurra, volontaria dell'Associazione Oasi del Sorriso, porta serenità e sollievo nei presidi ospedalieri lucani e non solo nei reparti di oncologia pediatrica. Magdalena, 31enne, è stata selezionata da una commissione composta dal presidente di Avis Basilicata, Roccomonetta, dalla presidente della sede di Senise, Lucia Polito, da due membri del direttivo senisese, scelti a caso, Vittoria Bellusci e Michele Arenella, e da un membro esterno. Quest'anno, in qualità di membro esterno, è stato invitato Don Giuseppe Di Tolve, giovane sacerdote della parrocchia Cristo Re di Pisticci, che sta portando avanti un'assidua battaglia per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul delicato tema del rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Una festa, quella dell'Avis senisese, che ha visto la partecipazione di numerose associazioni, di rappresentanti istituzionali e dei fantastici musicisti del connubio artistico MusicAvis, nato proprio in occasione di questo evento qualche anno fa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.